Devo fare parkour, oddio, saltare da una sedia all'altra con dei calzini, calzini sexy, non è la cosa ideale perché sono scivolosi come la merda queste cose Ciao a tutti che sono tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Parkour Ho trovato una nuova mappa che si chiama, oddio nuova, non lo so se è nuova, probabilmente non sarò stato il primo a farla, anzi quasi sicuramente Però si chiama Stay High I wanna stay high all the time Ok le canzoni vecchie riaffiorano nella mente Praticamente come vedete è un mix di parkour, di cose strane, di cose che ti fanno incazzare, di cose che dici ma perché ho iniziato di fare questa cosa nella mia vita E noi la faremo, ci sono in totale quanti livelli, penso 10 livelli dovrebbero essere esatto, non ce ne dovrebbero essere di più, quelli la che vedete qui dovrebbero essere tutti Il primo è il verde, ed è il più easy in teoria La cosa interessantissima di questa mappa È che ti fa sapere anche quanto tempo ci metti A fare un livello Ovviamente uno, cioè, è arrugginito all'inizio, quindi è normale Che, cioè, non, porca troia Oh, sono coglione come la merda Ok, ho capito un po' come funziona E questo è quello più facile raga Oh mio dio! Sono ancora vivo, sono ancora vivo No ma questo è easy in realtà raga, fidatevi di me, io sono un campione in queste cose Il parkour è il mio quarto nome Il secondo è Furia Il terzo è Bobby Io mi chiamo Salvatore Furia Bobby Parkour La famosa leggenda del western E' visto? Ho vinto! Allora un checkpoint Cazzo Checkpoint è cosa importante Non sapevo ci fossero checkpoint in questa mappa Il checkpoint è una cosa molto importante Perché ti permette di cazzeggiare anche se vuoi Visto questo l'ho fatto decisamente apposta Non ci crede nessuno Ma l'ho fatto apposta Mi prendi per il culo? Io nel parkour non capisco mai quando devo saltare E quando... No Tipo ora non dovevo saltare AAAAAAAH AAAAAAAH AAAAAAAA AAAAAAAA Uè Uè Come? Debbie come si fa? Sarà una lunga giornata Uè Uè Ok Uè Porca troia Ma mori C'ho il checkpoint Come notate il tempo però non indica Cioè la run Perché con i checkpoint sarebbe un po' di complicato Cioè indica proprio il tempo totale che ci metti A fare un livello Questo è... cioè è comodo Perché magari uno alla centesima volta Riesce a farlo tutto di... Di botto quindi non ha senso Minchia sono ando avanti non me ne ero accorto Troppo forte Sono ando avanti e non me ne ero accorto Diciamo una cosa di questo tipo con molta calma Pensa Pensa alle Hawaii Ai mari CARAIBICI TANTO CARAIBICI Ok Siamo arrivati Il bottone d'oro Di diamante Il bottone di pietra sopra un blocco di diamante Level one completed Hooray Perché ci sono delle teste... Questi sono dei creatori sicuro Però minchia potevate farlo un po' Cioè nascondere queste cose No? Diceva quello è il verde Poi il giallo probabilmente sarà il secondo Si perché quello è troppo difficile per essere il secondo Quel cazzo che è quello Vero? Oh merda è questo Ti ho detto è troppo difficile per essere questo Palle Let's take a sip out of reality Cazzo sei scemo Qua ci sono le scale Però dai non sembra troppo complicato Oh merda ho parlato Ok Cazzo Ma no sono ritornato sul blocco di partenza Sono coglione E sono anche coglione Non badate a me ragazzi Sono solamente un vecchietto che cerca di giocare a un videogioco Ok ci siamo Ok ci siamo DAI E' infame Devo fare così E devo fare così Dai E devo fare così Ok Ora Cerchiamo di non Non Sbaglio Cazzo ci arrivo là io Non lo so Checkpoint Checkpoint Grande checkpoint Grande con il checkpoint Cazzo mene muori pure Grande con il checkpoint Che quella scaletta così a pioli che girava sopra il blocco cos'era cos'era? Non si poteva fare Vediamo il checkpoint Sai quanto cazzo mene? No un'altra scala così No Allora Bisogna fare i trucchi proprio della magia Grande 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 Che ho fermo là Nooo Dove cazzo sono finito? Non lo so Torniamo avanti Proprio scemo come la merda però eh Ok Bisogna fare una cosa proprio Curata Curata Cura 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 curati 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 tantissimo Oh madonna mia Dai So che puoi farcela So che puoi farcela Concentrati Nella vita Uno deve fare una scelta Essere fenomenale O essere una mezza sega Tu Io sono la mezza sega decisamente Sono una cazzo di mezza sega Ho bisogno di un po' di motivazione Ne ho proprio bisogno No Shaya Do it Aiutami tu Just do it Dai Vai 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 Nooo 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 Don't let your dreams be dream Ce la posso fare Ce la posso fare Una questione di volontà Di volo DAAAA Lo so che non è impossibile Lo so perché altrimenti non l'avrebbero Fatta così Si Si L'ultima Nooo Nooo Noo 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 Ora so che si può fare Ora so che si può fare Noo Grande 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 Come una testa di cazzo Nnnnnn Nnnnnn Donna madonna 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 Si 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 SII Grazie Shaya Grazie Yes you can Con calma No 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 avevo premuto this way come this way ah perchè magari posso andare lì e poi andare lì e vincere e lì c'è dietro un checkpoint quello è il checkpoint vero oddio raga mi sta confondendo se io vado di qua poi da qui vado lì e c'è un checkpoint ok no si si non mi sta trollando no 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 cosa mi stai dicendo perchè mi devi prendere per il culo perchè io chiamo la polizia dell'internet non è vero non è vero però potrei chiamare la polizia dell'internet sul serio vai 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 vado no 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 e allora vogliamo capire un attimo come funziona sta storia porca di quella sta iniziando ad odiare qualcuno qualcosa o qualsiasi cosa odio tutti odio tutti se bussa qualcuno la porta in questo momento tiro fuori una spada e lo uccido ripeto lo uccido le odio ste cazzo di scale come ad awards le odio le scale che camano cambiare che cazzo sei in culo che cambiate pensi di merda ma in fondo in fondo le mappe horror non sono così male se ci pensi non ti fanno sclerare le mappe horror non ti fanno sclerare le mappe horror ok ci siamo ci siamo ripeto ci siamo ci siamo no no No. 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 Semplice ragazzi è semplice Dovessi farlo saltat... Ma cosa sono coglione? Sono coglione. Dillo che sono coglione La vera domanda per riuscirò a fare una cosa che porca quella cagna Sì 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 no 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 devo farla saltando uno due... quella cagna bastarda che t'ha creato a te e tu madre Vado qui, poi faccio uno, due, sì, 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 to the slime, ok, checkpoint, vabbè, qua dice down here, quindi down here da qua, ma io prendo la rincorsa, uuuuuh, no, questo non è vero che sembra giusto, non è vero! Grande genio, grande, 1407 secondi, 1407 secondi! Passo attimo ad una puntata di Naruto, anche se è un filler, faccio prima, livello 3, questo è il livello 3, in teoria, no, ci sono le scale, ma sei un po' infame, no, un po' infame lo sei se gli metti le scale pure qua, cos'è sta cosa, bisogna fare le scalette così, oddio, beh, non mi sembra troppo difficile per ora, devo solo salire le scalette, cioè, volentieri, insomma. Oh merda, ehm, ok, ok, non sapevo come andare, ma ce l'ho fatta lo stesso, qua ci sono delle cose, checkpoint? Eh, andiamo col più, cioè, no, 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 perché le scale, perché le scale, perché le scale, perché le scale, chi, quando, perché, come faccio? Allora, sono andato davanti e non funziona, sono andato dal lato per tornare dentro e non funziona, poi me lo spieghi, come faccio? Me lo spieghi un po'? Allora Ti odio molto, in questo istante, sali, sali, devi salire, salire, s-a-l-i-r-e E c'è un checkpoint subito dopo da quanto è difficile questo pezzo, ci rendiamo conto? C'è un checkpoint là, là! No, no, è proprio impossibile, è proprio impossibile, è po-popo-popo-popo-popo-popo-imbile Oh! Oh, oh, oh! Grande, grande, che ce l'hai fatta! Grande! Grand- Ti odio lo stesso, ti odio lo stesso, che non puoi fare questi salti così lunghi, che? Super Mario Bros, andiamo, vediamo la riscorsa, la riscorsa cosa vuol dire? No, non ce l'ho mai popiamo nella vita, mai in zero Ce l'ho quasi arrivato, hai visto? Se io premo la barra spaziatrice, ci sarà un cazzo di motivo Oh no! Ok, se faccio tutto con un salto ce la faccio Si, 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 cazzo si Dimmi che no, che non, no, 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 non si può No, non si può C'era quasi l'uscito, fai la sempre Io non lo so Sarà una lunga sessione di editing Ah, vai così Andiamo Andiamo No, 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 devo farlo con il doppio saltello, mi sa Vai, ok Vai così Vai così Vai, no Oh, cazzo Ok, no, 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 oddio Non fame, cazzo stai facendo Ma guarda, le ultime due erano stronze Checkpoint Checkpoint Ah, mettiamoci sulla lana gialla Si, ma vedi qua, ci sono le scale Perché ci sono le scale Da dove sono partito io Da laggiù Ho fatto così, 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 così Per arrivare qua sopra E fare qualcosa e buttarmi di nuovo qua Non è che devo scendere in qualche modo Ci sono state scalette qua, non so che cazzo serve No, non lo so Non lo so, ma adesso mi sono messa là per Distrarmi Ok, muh, troppo forte Vai così Va, oh mio dio Oh mio dio, sì Sì 584 secondi, sì Sì cazzo, vai così Troppo forte Signore e signori, per questo video È tutto Stay high, stay animals E vaffanala Io vi piace per aver visto questo video, mi ricordo lasciare mi piace Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Se hai ancora mai fatto, iscrivetevi su Twitter, Instagram, Facebook E ovunque voi vogliate E io vi saluto, ciao a tutti